Nadia Toffa, non si può parlare di guarigione, Nadia Toffa, che recentemente ha parlato della sua malattia in diretta a TV Apleiene, ha deciso di raccontare il cancro che l'ha colpita più di due mesi fa e contro il quale ancora sta combattendo. Opite del Maurizio Costanzo Show, continua a essere molto cauta, è tutto superato, le chiede Costanzo, e lei? Questo non è detto, la vita è strana, quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita, e ancora, non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo sempre sorridendo perché son fatta così. Queste, invece, le parole di Costanzo rivolte all'inviata e conduttrice dei Apleiene, lei è un esempio di capacità reattiva, di voglia di vivere e sta facendo un gran bene a chi invece si fa vincere dalla malattia. Nadia Toffa, infatti, è tornata lentamente alla sua vita di sempre. È tornata anche alla conduzione dei Apleiene, un programma che per lei è vita. Come ricorderete, a preoccupare tutta l'Italia era stato un malore che l'aveva colpita mentre si trovava in trasferta per lavoro, solo dopo due mesi, la Toffa ha deciso di spiegare tutto, di parlare per la prima volta del cancro che l'ha colpita. Iscriviti al nostro canale